ciao bambini oggi vi leggo questo libro si intitola lunedì è uno dei miei libri preferiti soprattutto per il lunedì andiamo a vederlo è molto bello da toccare è un peccato che non possa mandarvi la sensibilità delle mie mani ma ve lo leggo molto volentieri il suo nome è lunedì lunedì aspetta martedì martedì pensa a mercoledì e mercoledì si sente piccolo così piccolo che giovedì non sa più se domani sarà proprio venerdì sabato è una sorpresa e domenica passa in silenzio buongiorno lunedì buongiorno a te ieri buongiorno domani buongiorno lunedì sono venuto a farti un saluto che ne diresti di una tazza di tè hai un po di zucchero e due i nostri tre amici si sono riuniti davanti al pianoforte ieri suona al contrario domani solfeggia tutto serio e lunedì sorride felice suonano per tanto tempo di tempo ne hanno tanto sogni d'oro lunedì buonanotte di note e di te buongiorno io sono la primavera sono verde chiara e leggera ho nascosto nel vento il suono di un ruscello e in silenzio respiro nello sbocciare di un fiore sono tenera e da sempre attesa le foglie e i fiori lieve a carezzo ho il cielo intero per ridere piacere io sono l'estate mi tuffo nell'oro dei campi di grano e aspetto che i frutti siano maturi guardo i colori diventare più accesi e sento di intensità crescere gli odori sazia allungo il mezzogiorno sul filo delle ore e le ombre arretrano per la paura io sono il folle autunno mi giro mi rivolto e giravolto rosso foglia tutto imbroglio mi ruffo mi tuffo e soffio via rido e poi sparisco io sono l'inverno il mio paese bianco di silenzio di freddo di brina brillano le mie stelle il tempo è immobile ma ecco si alzano in un momento la neve il ghiaccio e il vento sempre più neve lunedì dove sei lunedì lunedì sei qui lunedì e tu ti ricordi di lunedì? aspettava ieri e pensava domani si sentiva piccolo così piccolo che non sapeva più niente di giovedì niente di venerdì il sabato sorrideva e domenica passava in silenzio e il lunedì successivo arrivò un po' diverso però il suo nome è lunedì vi è piaciuto? io lo trovo bellissimo ciao ragazzi buona giornata